Ok, buongiorno a tutti, abbiamo avuto alcuni problemi, alcuni dettagli che non sono perfettamente appunto. Cominciamo dall'ultima slide, giusto per avere un punto di riferimento per quanto riguarda la storia e anche dal punto di vista linguistico. Allora era la part 5, Forstus and Mephistopheles go to Rome and play some tricks on the Pope. Allora qui abbiamo delle presenze molto importanti, naturalmente c'è addirittura un Papa e un Antipapa e su questo dopo ci ritorneremo, perché c'è qualcosina che va aggiunto, insomma, che Marlo dava per scontato. Comunque vediamo questa slide. Mephistopheles told Forstus that he had planned something special for him. Questa è una frase attiva, mentre nel testo, soprattutto in quello originale, troviamo spesso delle frasi passive, tipo questa che verrebbe naturalmente capovolta. Something special had been planned for him. Ecco, in questo capitolo in particolare per coloro che hanno il libro ci sono degli esercizi proprio che riguardano il passivo, quindi frasi attive da trasformare e viceversa. Quindi passiamo al secondo punto comunque della slide, quella era un piccolo appunto linguistico che è interessante notare. Secondo punto, Pope Adrian was about to celebrate his victory. To be about invece ci rimanda al futuro, essere sul punto di. E parliamo del rival German Pope Bruno, che noi chiameremmo un vero antipapa. When they arrived at the Pope's Palace, they saw Pope Adrian, his guest, eccetera, eccetera, e il prisoner Bruno. Avanti con questo Bruno, che è un nome non particolarmente noto dal punto di vista dei regnanti e neanche dei papi, bensì era un filosofo e sostanzialmente tutto questo discorso intorno a Bruno proprio, vediamo che ha un preciso significato collegato alle lotte, perché c'erano delle vere e proprie lotte religiose di quel periodo, perché è il tempo di Martino Lutero e di Calvino e anche di Giordano Bruno, cioè Giordano Bruno ormai era sparito, però c'era stato e quindi qui ci viene riportato nella figura praticamente di un antipapa, perché in realtà per coloro che avessero interessi storici ed è senz'altro un periodo molto interessante da poter rivedere, quando in Germania ci furono appunto le famose tavole che forse di Martino Lutero non sono state neanche appese, eccetera, eccetera, alle porte della chiesa, però si sviluppò tutta una serie di problematiche e di relazioni che erano tutte quante malviste dalla chiesa di Roma. Andiamo avanti comunque con questa slide. Mephistopheles e Faustus disguised as the cardinals of France and Padua. To disguise è travestirsi. They said, mentre approfittavano naturalmente della loro invisibilità, dissero a Bruno, che, cioè, dissero che Bruno avrebbe dovuto essere executed, quindi condannato a morte, and the Pope ordered to take him away, approfittando del fatto che potevano prendere le sembianze di qualcun altro, infatti si travestirono come i due cardinali di Francia e di Padova e portarono praticamente per misero al prigioniero di fuggire, ma non solo, si portarono dietro anche la corona. I veri cardinali invece naturalmente ebbero, cioè, naturalmente secondo Marlo, in questa tragedia were punished. Altre frasi, per esempio, che voi potete trovare se avete il libro e che riguardano il passaggio dall'attivo al passivo, qui adesso mi riprendo il libro, sono a pagina 63, nello specchietto che c'è proprio all'interno della pagina, era stata organizzata. The following sentences show how present perfect passive and past perfect passive are formed. Quindi dall'attivo noi partiamo. They have planned an important feast. Trasformazione, quello che è complemento oggetto, cioè l'important feast diventa soggetto. Quindi an important feast has been planned. In questo caso però abbiamo il verbo avere alla terza persona singolare presente, has been. Mentre se la frase attiva è già al passato, they had planned, in questo caso un past perfect, diventerà al passato anche, al past perfect, anche la frase passiva. Quindi an important feast had been planned. Perché mi fermo sul fatto, pongo leggermente l'accento sul discorso del passivo? Perché nella lingua inglese si usa molto di più di quanto lo si faccia in italiano. E rientra un pochino anche in quello che è il cuore o una parte della lingua inglese che noi chiamiamo understatement. Cioè invece di dire direttamente una cosa con un soggetto, facciamo in modo che sia la cosa stessa a occupare la nostra immaginazione, a colpirci e il soggetto magari viene anche tralasciato. O perché si dà per scontato, oppure perché non lo si vuole esprimere. Nel caso si voglia esprimere, allora abbiamo la preposizione by. Infatti, the Pope has planned an important feast. Esempio. An important feast has been planned by the Pope. È il nostro complemento di agente. Quindi se avete, if you have time, please work on pages 63 and 64. Ecco, questo per i linguisti. Per coloro che invece amano soltanto la storia, soprattutto la storia, partiamo per vedere invece qualche, some historical hints. Allora, they finally, e parliamo di Faustos e del suo accompagnatore, arrived in Rome at the purple palace of Pope Adrian. Pope Adrian had just captured his German rival, Pope Bruno, and was going to celebrate. Was there, ma è la domanda che noi ci facciamo, a German rival for the Pope? Nominalmente non c'era, ma dal punto di vista invece realistico di quello che effettivamente succedeva in Germania, ce n'erano più di uno. ma soprattutto non fisicamente, era un pensiero che si stava sviluppando. E quindi la presenza, il riferimento continuo a questo Bruno, who was Bruno, non è altro che il riferimento al pensiero di Giordano Bruno. The philosopher, Giordano Bruno, had many contrasts, e lo sappiamo, lo possiamo andare a rivedere eventualmente, perché qui entriamo in un altro settore, però voi sapete che linguisticamente noi non ci stacchiamo mai da argomenti storici o filosofici o anche biologici, a seconda dei casi. Poi ognuno può andare ad approfondire. Giordano Bruno, had many contrasts with the Catholic Church, was burnt at the stake, e anche lui è stato naturalmente messo a rogo. And he had previously taught in many countries in Europe, including the German University of Wittenberg. Eccoci qua, il riferimento preciso a Wittenberg, perché la nostra storia era iniziata proprio in quella città. Quindi tutto rientra, tutto ritorna, il cerchio si chiude. Ok? Quindi, dopo questo escursus e un omaggio al filosofo Giordano Bruno, mi par giusto darglielo, renderglielo, abbiamo invece adesso un trasferimento da Roma a Cachette, come direbbero i francesi, cioè di nascosto, se non sono andati, sono scappati, e siamo arrivati in Germania. E siamo alla corte dell'imperatore. Cosa succede? Fostos and Mephistopheles returned to Wittenberg, the emperor Charles V sent for him. Cioè l'imperatore aveva sentito parlare di Fostos e delle sue abilità, della capacità di trasformare eventi, luoghi, di far addirittura ricomparire persone defunte, e morti. Naturalmente sono tutte persone che hanno un peso da un punto di vista storico, che vengono conosciute, che sono conosciute, che sono state studiate, e quindi vedremo dopo addirittura re di Persia, imperatori vari. The emperor welcomed Fostos and thanked him for rescuing Bruno. L'imperatore, quindi welcomed, passato, gli è il benvenuto, in pompa magna, e le ringraziò anche per aver liberato Bruno. Quindi era una persona che era un intellettuale che stava molto caro, al quale l'imperatore teneva. Some knights, però voi sapete che la corte è sempre formata da persone numerose, e anche diverse fra di loro. Some knights were not happy. Eccoci qua. Knights sono i cavalieri. Cavalieri, i dignitari comunque. In particolare Benvolio, Benvolio in particular, questo nome che vi fa pensare immediatamente a Shakespeare. E quindi, perché voi sapete che Benvolio era uno dei personaggi del Romeo and Juliet, e quindi la scelta stessa del nome Benvolio come rivale di Fostos ci fa probabilmente immaginare anche il suo rapporto, e questo è certificato, comunque ci sono testimonianze non molto felice che aveva con Shakespeare, che era un suo coetaneo. He was jealous of Fostos and criticized him. Questo Benvolio, un cavaliere, un knight, alla corte di Carlo V, non apprezzava Fostos e lo criticava. Fostos uses his magic powers to amuse the emperor. Lui va avanti, era stato invitato, Fostos, alla corte per divertire e interessare, entertain, amuse, tutto quello che volete, l'imperatore, quindi fa quello per cui è stato invitato. Benvolio was skeptical and uttered. To utter vuol dire esprimere quasi fra i denti, no? To utter è senz'altro è un sinonimo di parlare, però un parlare un po' immediato e anche non particolarmente aperto, non che non deve essere ascoltato da tutti. Fu un po' un po' rabbioso. Quindi he was skeptical and uttered. If you can bring Alexander here, I'll become a stag. Allora, se tu porterai, eh, cioè lo sfida in un certo senso, il grande Alessandro, perché era ciò che aveva chiesto, che aveva chiesto il sovrano, cioè Carlo V, io diventerò uno stag. Uno stag è una specie di caprone animale con le corna. Everybody could see Benvolio naturalmente questa è una sintesi del capitolo e infatti poi queste corna compaiono e Benvolio stesso la prima volta riesce a togliersele perché chiede in un certo senso che Forstos non dico lo perdoni però lo scusi e quindi gli faccia sparire queste corna. Ma successivamente invece gli rimarranno e questo è stato visto da tutti. Quindi adesso andiamo al testo e vediamo effettivamente che cosa successe. Siamo nella part 6. Not all, ecco riprendo dal secondo paragrafo, not all of the emperor's knights were happy that Forstos had been invited to the palace. Benvolio in particular was very skeptical about the magic powers that Forstos was rumored to have. To rumor vuol dire parlottare i voci di popolo e quindi si diceva se ne parlava i rumors sono anche i particolizzi qualche volta. Aren't you coming to see Forstos the great magician? Asked his friend Martino. He says he's going to perform magic tricks never seen before in Germany. cioè qualcuno dice che non si è mai visto un tipo di magia così eccezionale. I was out drinking last night replied Benvolio I was out drinking notice this sentence cioè l'idea del past continues stavo fuori ho bevuto ho bevuto last night and I have got a terrible headache come conseguenza ho questa mal di testa I can't be bothered to watch this magician to be bothered vuol dire infastidito proprio annoiato non me lo posso permettere di ascoltare questo mago I may look out of my window to see what happens but I won't come to the palace e si rifiuta di andare a palazzo lui guarderà dalla finestra d'altro canto invece l'imperatore era molto contento and welcomed Faustus very warmly he thanked him for rescuing Bruno from Pope Adrian and he promised Faustus his friendship Faustus replied politely to the emperor's greeting and assured him of his loyalty then he promised to use his magic powers to amuse e la frase che adesso qui è stata riassunta chiaramente perché è un'opera adattata comunque la sostanza è questa quale sarà la grande magia che farà I can make the dead appear cioè posso far ritornare riapparire i morti con una certa così un certo orgoglio groundly to say something roundly cioè dandosi un bel po' di importanza grand è un aggettivo che è simile all'italiano ma non è grande in senso fisico bensì in senso diciamo borrioso molto spesso then show me Alexander the Great and this mistress the emperor said show us what they really looked like allora l'imperatore lo prende in parola e dice show me Alexander the Great Alessandro il Grande e la sua amante show us mostraci come effettivamente erano and do it quickly ben voglio muttered to himself ben voglio borbotta fra se to matter intanto è vero che sembrava che pensasse a voce alta e dice fallo velocemente do it quickly as he looked out of the window of his house I am tired already and if you don't do something now I'll fall asleep cioè mostra proprio un disinteresse un'indifferenza e anche uno scetticismo abbastanza evidenti Faustus che aveva orecchie ovunque overheard ben voglio rude comment rude è proprio maleducato don't be rude infatti quando diciamo ai bambini o qualcuno che si esprime in modo non perfettamente polite I'll do something don't worry my friend he said under his breath then he turned to Charles the fifth e gli diede anche una risposta I'll do something sì sì farò qualcosa don't worry my friend ti ho capito adesso vedrai che cosa ti aspetta sotto sotto era ciò che minacciava il nostro Faustus naturalmente è vero sono spiriti quindi non pensate di toccarli if you can bring Alexander here I'll be acting and become a stag ben voglio said sarcastically ben voglio di nuovo lancia la sua sfida e se poi portare se riesci a portare qui Alessandro io diventerò le corna perché tu possa recitare bene la tua parte after a short time Alexander the Great appeared in front of the emperor Charles watched in astonishment to be astonished è in grande meraviglia as Alexander killed Darius and then moved towards his mistress cioè li vedono anche agire questi personaggi cioè Alexander mentre compie un atto piuttosto violento cioè uccide Dario e si rivolse alla sua amante Alexander took Darius's crown and placed it on his mistress's head e prese la corona dal capo di Dario per porla sul capo della sua amante then he turned towards Charles and waved to him poi si girarono verso Carlo V verso il nostro imperatore germanico e lo salutarono Charles V moved forward as if he wanted to touch Alexander's hand Faustus put a hand on his shoulder Alexander era talmente preso dalla visione che stava avvicinandosi come per voler toccare la mano di Alessandro ma Faustus lo fermò mettendogli una mano sulla spalla you are forgetting that these are not real people sir he said they are spirits remember they are spirits you are right Faustus they were so real I wanted to touch them the emperor said suddenly Faustus pointed to the window where Benvolio had been watching events everyone looked up Benvolio was asleep Benvolio come diceva era molto stanco come aveva detto prima e si è addormentato Benvolio wake up called the emperor l'imperatore è quasi offeso who is disturbing me Benvolio asked sleepily he put his hand to his head and rubbed it si mise la mano in testa e si grattò I've got such a headache he complained to complain e lamentarsi everyone laughed and pointed at the horns on the unfortunate man's head però tutti si misero a ridere perché voi vedete dalla foto che c'è comunque nella pagina precedente la pagina 69 e abbiamo il nostro bel dormiente con un paio di corna e tutti quanti vedendolo infatti indicavano le corna pointed at the horns on the unfortunate man's head Benvolio was horrified when he realized what Faustos had done to him cioè in un ridito you deserve it Faustos said to him te lo meriti to deserve remember what you said if you can bring Alexander here I'll be actor and become a stag now you have the horns I think I'll call some hounds to hunt you down chiamerò anche un po' di cani perché ti dia la caccia Benvolio was terrified he begged Faustos not to call the hounds però era in un ridito ma anche molto molto impaurito e quindi chiese implorò Faustos perché gli facesse sparire le corna later that day several of the emperor's knights met to talk about Faustos cioè il discorso adesso continua fra i vari cavalieri e i cortigiani Benvolio però nonostante gli avesse fatto sparire le corna non era contento anzi la sua rabbia montava maggiormente he wanted revenge to revenge è la vendetta for the trick that Faustos had plagued in him he was determined to make Faustos suffer cioè voleva far soffrire Faustos Martino però che forse è un pochino più prudente e che non era coinvolto in prima persona almeno per il momento lo avverte e gli dice think very carefully think carefully careful attentamente Faustos is dangerous he insulted me Benvolio said if you are a real friend of mine you'll help me to take revenge of all that insult eh no Benvolio non si calma mi ha insultato e se tu sei un amico if you are a real friend of mine vi ricordate questa forma noi diciamo un mio amico mentre in inglese dobbiamo dire a friend of mine uno dei miei amici quindi if you are a real friend of mine you'll help me e quindi lo punge proprio nel vivo no se mi vuoi dimostrare amicizia se sei un vero amico mi aiuterai calm down Friedrich said un altro amico si accorge che la temperatura sta salendo lo prega di calmarsi di calmarsi we'll help you ti aiuterremo why don't we set an ambush for him un ambush è una specie di trappola un'imboscata he suggested we'll hide near the road and when Faustus comes along we'll kill him he won't have a chance ah si una cosa molto originale praticamente ci nasconderemo lungo la strada come facevano obliganti e quando passa Faustus lo uccideremo non gli daremo nessuna via di scampo non avrà proprio via di scampo the three knights waited for Faustus to come along they did not have to wait long soon they could see Faustus walking by himself along the road dopo un po' Faustus compare camminando da solo they did not know that Faustus was wearing a false head non sapevano che Faustus si era messo cioè si era mascherato in modo tale da avere una testa finta non era su he's coming Friedrich cried in excitement quickly man attack him with your swords arriva dai veloci veloci attaccatelo con la vostra spada Benvolio was the first to take out his sword he ran up behind Faustus and struck him on the head with his weapon subito si precipitò contro Faustus lo colpì e gli tagliò la testa con la sua arma Faustus gave a terrible groan groan è un grido lamentoso ma molto forte anche sgradevole groan to groan urlò and fell to the ground Benvolio cut off his head Benvolio terminò quindi l'opera e gli tagliò completamente la testa he wasn't so dangerous after all Friedrich commented we are all his we are all his magic power now he really needs it when he really needs it dove sono finiti i suoi poteri magici il suo grande potere adesso che ne ha bisogno I'm going to put some horns on his head and hang it from the window where I was standing earlier cioè per completare la sua diciamo la sua vendetta Benvolio pensa di mettere anche un paio di corna a questa testa mozzata e appenderlo alla finestra dove lui stesso si trovava la sera prima the three knights began to talk excitedly about what they would do to hide Faustos's body e continuarono a chiacchierare a parlare un po' concitatamente per capire dove mettere dove nascondere il corpo di Faustos non si erano accorti che Faustos si era alzato and quietly climbed to his feet si alzò molto molto silenziosamente e li guardò li affrontò Benvolio quindi si trovarono di fronte un uomo con la testa senza testa e Benvolio fu il primo a vedere quest'uomo senza testa headless man che stava in piedi he's alive he screamed è vivo urlò give him back his head Friedrich shouted ridategli la testa Friedrich urlò Faustos looked at the nights and smiled with obvious contempt Faustos li guardò non sappiamo con quale testa comunque il testo dice che li guardò e con grande disprezzo fece un sorriso Fools he said don't you want don't you know that I was given 24 years of life by Lucifer nothing can kill me during that time sciocchi non lo sapete che mi sono stati dati 24 anni di vita da Lucifero nothing can kill me during that time durante quel periodo quel lasso di tempo niente può farmi del male nessuno può uccidermi niente nessuno può uccidermi I was given anche questa è una frase passiva mi sono stati dati la frase attiva sarebbe Lucifer gave me 24 years Faustos called Mephistopheles and some other devils they arrived immediately and stood waiting for his orders a questo punto arrivano i diavoli i suoi schiavi e sono pronti a ricevere waiting for his orders will make the world laugh at these men he decided li renderemo ridicoli al mondo intero will make the world laugh la frase è naturalmente costruita in modo diverso è attiva will make the world laugh faremo ridere il mondo di questi uomini sarebbe no? quindi li renderemo ridicoli al mondo he decided take this one he said pointing at Benvolio indicando Benvolio throw him into some filthy water prima cosa per ognuno c'è una punizione gettatelo nell'acqua putrefacente sporca then he pointed at Friedrich and drag this one through the woods until his face bleeds trascinate questo nei boschi finché il suo volto sanguini finally he pointed at Martino take this one he commanded the devils and roll him down a steep cliff to break his bones questo qua comandò portatelo su un'altra rupe e buttatelo giù in modo tale che si rompa tutte le ossa to break his bones the emperor's court was astonished later in the day when three dirty blood-stained men entered the palace l'imperatore non sapeva niente e quindi sia lui che la sua corte furono attoniti quando più tardi lo stesso giorno si presentarono tre uomini insanguinati e sporchi al palazzo the three men were the emperor's knights erano i tre cavalieri dell'imperatore Martino Benvolio and Friedrich it soon became known that the three knights had horns on their heads that they could not remove la cosa che colpì immediatamente it soon became known e quindi venne poi risaputa tutti ne parlarono era che i tre cavalieri avevano tutti e tre corna e non si potevano togliere what can we do Friedrich asked his friends we can't revenge ourselves on Fostos he's too clever for us cosa possiamo fare Friedrich asked his friends we can't revenge ourselves non possiamo vendicarci contro Fostos è troppo intelligente è troppo in grande troppo abile per noi if we attack him again Benvolio said I'll just put his ears on our heads everybody will laugh at us se lo attaccheremo ancora non farà altro che metterci magari le orecchie d'asino e quindi ci rideranno ancora di più dietro what can we do Martino wanted to know cosa possiamo fare e la decisione finale we must hide away from everyone to hide away nasconderci nasconderci da tutti Benvolio said sadly I've got a castle deep in the country ho un castello lontano campagna let's go there where no one will see us and laugh at our misfortunes dove nessuno ci vedrà e riderà di noi infatti questo era l'ultimo paragrafo che diceva everybody could see Benvolio's horns and together with his friends he went away to hide deep in the country so no one would see them and laugh at their misfortune nessuno quindi li avrebbe più potuti rivedere e questa è la fine dei tre cavalieri facciamo un piccolo riferimento adesso a una una citazione che c'è a pagina 75 a proposito delle leggende che circolavano a quel tempo perché effettivamente John Faustos esisteva era esistito he was born John Faustos actually existed he was born around 1480 and died around 1540 nel 1540 quindi un po' prima rispetto al tempo in cui l'opera è stata scritta comunque non si sa esattamente chi realmente fosse perché c'erano moltissime leggende che gli crebbero intorno it is interesting to note that many contemporary scholars and religious figures including Martin Luther believed in these legends però è interessante notare che molti studiosi contemporanei e figure religiose che molto spesso poi studiosi religiosi combaciavano erano le stesse persone includendo quindi Martin Lutero credevano a queste leggende e adesso poi nel testo ci sono tre leggende con dei dettagli falsi e altri veri voi dovreste eventualmente decidere quale è vera e quale così vi convince maggiormente ok let's go on and we see part seven just a minute yes lasciamo quindi Roma lasciamo anche la corte di Carlo V e nella parte seven troviamo Fostos continued to use his magic powers cioè mentre passano questi 24 anni praticamente ci stiamo già avvicinando comunque alla loro conclusione ci sono altri fatti più o meno divertenti anche perché quando c'è la magia di mezzo è chiaro che si ottiene anche qualcosa di eccezionale che può impaurire può creare così una certa irrequietezza ma può anche divertire allora qui abbiamo qui abbiamo a che fare con un commerciante di cavalli perché Fostos continuava era sempre in cammino sempre in movimento e questa volta il suo obiettivo è quello di colpire un commerciante di cavalli e quindi un commerciante di cavalli si offrì di comprare il volle cioè propose di comprare il cavallo di Fostos era un excellent horse and Fostos accepted e Fostos accettò but there was one condition the horse dealer was curious adesso vedremo quale sarà questa condizione e il horse dealer però è curioso e quindi non sa resistere alla fine cosa succede he lost the horse and the forty dollars he had paid che perse sia il cavallo che credeva di aver comprato sia la cifra che aveva versato the duchess was astonished quindi c'è una presenza femminile anche che assiste alla scena perché successivamente cosa ci sarà addirittura il cambio di stagione it is winter here but in other parts of the world it's summer che apparentemente sembra anche una dichiarazione abbastanza comprensibile e naturale no perché noi adesso abbiamo una stagione in australia ne abbiamo un'altra per esempio ma la cosa invece che riguarda quest'opera è contenuta nello stesso luogo quindi non è che dobbiamo fare tanti chilometri per cui vediamo nevicare magari d'estate allora adesso prendiamo il libro perché questo è il sunto e vediamo di trovare questo commerciante di cavalli forstos horse which he had seen and admired si è free di comprare quindi il cavallo di forstos i'll give you forty dollars for the horse he offered le darò vi darò quaranta dollari forstos smiled at the man you can't buy a horse as good as this one for forty dollars he said I'm not even sure that I want to sell him but I might change my mind if you offered fifty dollars qui assistiamo a una vera e propria contrattazione cioè come da buon venditore forstos dice cioè abile nelle arti della contrattazione e anche soprattutto nel capire nel sapere quale sarà la reazione di chi lo sta ad ascoltare gli dice subito che non può certamente comprare un cavallo come questo as good as this one cioè un cavallo di tale fatta per quaranta dollari e poi non sono neanche sicuro se lo voglio vendere I'm not even sure that I want to sell him but I might change my mind to change one's mind e cambiare idea if you offered fifty dollars però se mi offrisse cinquanta dollari potrei anche cambiare idea the horse dealer shook his head sadly no non ce la faceva scorse la testa un po' tristemente I haven't got fifty dollars he said bitterly I have lost a lot of money on horses recently please take forty dollars for yours cioè addirittura lo prega perché non ha cinquanta dollari ha perso un sacco di soldi coi cavalli negli ultimi tempi e lo prega di accettare i quaranta dollari take forty dollars for yours notate la formazione della frase cioè noi diremmo si prenda abbia la compiacenza di accettare i quaranta dollari invece in inglese take forty dollars for yours come fossero tuoi no? come se tu li avessi già presi questo è un pronome possessivo for yours ma c'è una cosa che dovete sapere di questo cavallo eccezionale in tutte le maniere you can ride him anywhere and he always do what you want quindi ubbidiente attivo determinato e soprattutto farà tutto quello che vuole but you mustn't ride him into water accipicchia non può portarlo nell'acqua do you understand me? never take this horse into water non portarlo mai nell'acqua what's the matter with him? the horse dealer asked he drinks water doesn't he? ma perché? qual è il problema? è sì che beve acqua no? Forstus smiled again oh yes he replied he drinks water all right but never ride him over water ma non fattelo mai camminare non lo faccia cavalcare nell'acqua the horse dealer paid Forstus 40 dollars and rode the horse away he thought he had made a good bargain and he was a happy man un bel affare un buon affare a good bargain pensava di aver fatto un buon affare Forstus osservò l'uomo andarsene suddenly he felt unbearably sad poi improvvisamente avverte una insostenibile tristezza he knew he knew that the 24 years he had agreed with Lucifer we are coming to an end he was tired and decided to sleep for a while cioè anche lui dimostra delle debolezze che potremmo dire sono più umane che debolezze da sì che possono essere adatte per un diavolo un demonio uno spirito non è mai stanco invece Forstus è anche lui un po' stanco e anche un po' triste unbearably to bear vuol dire sopportare quindi era in modo insopportabilmente triste perché sapeva che stavano per finire i 24 anni nel frattempo vediamo e quindi si addormentò un po' the horse dealer meanwhile took the horse that Forstus had sold him and drove him around for a while andò in giro con sto cavallo the horse was a good animal and very lively the horse dealer wondered why Forstus had told him not to ride the animal into water and he decided to find out what would happen a questo punto però la curiosità è tanta ci fa ricordare un po' anche il nostro mito vero di Orfeo de Eurydice non girarti però non si può non si può perché non lo devo fare ma se lo faccio ma se lo faccio solo un po' e quindi lui invece non aveva il problema di tirarsi bensì di andare eventualmente col cavallo in acqua e fece questa esperienza he rode the horse into a shallow river in un fiumiciattolo non molto profondo into a shallow shallow con acqua non tanto profonda the animal the animal suddenly disappeared and the poor man found himself sitting on a wet bundle of straw in the middle of the river cosa successe? improvvisamente l'animale scomparve e l'uomo si trovò seduto in una specie di isoletta di mucchio di erba secca in mezzo al fiume perché il fiume non era appunto profondo e quindi c'erano anche delle parti che affioravano l'uomo ritornò sporco naturalmente perché aveva fatto un bagno sostanzialmente nel fango ed era anche molto arrabbiato he was furious he began shouting and swearing cominciò cioè continuò perché ormai l'aveva già cominciato a fare a urlare e anche a maledirlo a bestemmiare he was looking for Faustos and threw open the door of the room where the magician was sleeping he tried to walk him up by pulling his leg and suddenly Faustos' leg came off in the horse dealer's hand cioè fece una cosa molto violenta in un certo senso perché cercava cioè di svegliarlo tirandogli una gamba improvvisamente la gamba di Faustos gli rimase in mano came off in the horse dealer's hand what have I done the man cried in despair have I killed him cosa ho fatto l'ho ucciso Faustos began to call for help Faustos chiamò aiuto murder help me good people I'm being murdered altra frase passiva I'm being murdered questa è una struttura che in italiano non viene tradotta chiaramente allo stesso modo cioè sarebbe mi stanno uccidendo mentre I am being cioè io sto essendo ucciso I'm being murdered cioè mi stanno uccidendo dobbiamo dire in italiano però l'inglese ha questa formula che è particolarmente pregnante comunque perché I soggetto I am being eh cioè il verbo essere che dovrebbe significare invece un'attività vitale da parte del soggetto viene messa in forma passiva ma al continuous più participio passato I am being murdered cioè qualcosa che mi stanno facendo sostanzialmente noi dobbiamo dire in italiano the horse dealer panicked and ran away il horse dealer il commerciante di cavalli nel panico scappo via Faustos laughed to see the man running off e quindi un'altra risata si fa laughed I have got my leg back he joked to himself and he has got a bundle of wet straw for his forty dollars io ho di nuovo la mia gamba e lui invece ha un po' di paglia secca anzi secca che è diventata bagnata wet straw per quaranta dollari Faustos was now so famous that important people were always inviting him e adesso abbiamo altre persone che vogliono interessarsi che vogliono assistere ai suoi prodigi uno di questi è un duke il duke of vanholt duke si presenta e l'aveva invitato al suo palazzo e chiese quindi di rappresentare qualche cosa di stupefacente soprattutto di fronte alla duchessa che aspettava un bambino who was expecting a child e allora che cosa dice mi è stato detto ho sentito che le donne nella sua condizione hanno strane voglie di cibo c'è qualche cosa qualche delizia che posso trovarle qualsiasi cosa che lei desideri la trovo qualsiasi cosa al mondo the duchess thought for a moment and then smiled she smiled there is one thing she told him softly it's the middle of the winter now and I keep dreaming of grapes I would love to eat some grapes le voglia no? quindi adesso purtroppo dice siamo in inverno siamo a metà inverno ma io continuo ad aver voglia continuo a sognare l'uva amerei mi piacerebbe un sacco un po' d'uva that's an easy matter forced to stalk her with a smile he made a sign to Mephistopheles ah è una cosa da poco fece un segno Mephistopheles Mephistopheles disappeared and after a few minutes he came back he was carrying a large bunch of grapes in his hand e tornò dopo qualche minuto con un grandissimo cioè con con grandi grappoli d'uva forstos took the grapes and gave them to the duchess with a bow con un inchino lo diede alla duchessa forstos li prese e lo diede alla duchessa try these they should be good assaggi questi devono essere buoni the duchess the duchess was astonished she took the grapes and ate some e ne mangiò un po' they are delicious the best grapes I've ever tasted la miglior uva che abbia mai assaggiato but where do they come from asked the duke ma il duke chiese ma da dove vengono it's winter here forstos explained but in other parts of the world it's summer Mephistopheles flew to another part of the world to pick these grapes for you e quindi in barba a tutti i passaggi aerei e di navi questi invece personaggi riescono in pochi minuti ad andare dall'altra parte del mondo e portarci la frutta o la verdura o le delizie che crescono così lontane tanto è vero che dice qui è inverno ma in altre parti del mondo è estate e quindi Mephistopheles flew to fly flew flown volare in un'altra parte del mondo ha preso quest'uva e te l'ha portata and she was particularly satisfied so next allora riprendiamo un attimo per vedere tutte le varie frasi che sono in gran parte al passato a horse dealer offered to buy forstos's horse ecco anche to offer che vuol dire sì offrire ma anche offrirsi in questo caso è proprio offered to buy finished it was an excellent horse there was one condition la condition era quella di non andare nell'acqua ma l'horse dealer era curious e quindi ci andò e perse tutto la donna invece la duchess che aspettava il bambino ebbe la sua uva noi adesso ci salutiamo e ci vediamo alla prossima volta bye bye see you next week ciao